Con uno sguardo rivolto al futuro verso materiali e tecniche ecosostenibili applicate al settore costruzioni, la Camera di Commercio di Cuneo ha presentato la 17esima edizione del Prezzario Opere Edili e Impiantistiche Provinciale. Nell'occasione si è parlato dei criteri ambientali minimi, detti CAM, con un approfondimento sulla loro applicazione ai prezzari di riferimento e al catalogo regionale dei prodotti edilizi con certificazione ambientale. Inoltre, grazie alle sinergie previste dal progetto europeo Alcotrae Cobati, di cui la Camera di Commercio di Cuneo è capofila, nel Prezzario è stata ampliata la sezione dedicata all'edilizia sostenibile, inserendo nuove voci di materiali che rispettano i CAM ed Ili e aggiornato i relativi prezzi. In più, attraverso il supporto tecnico di Environment Park nell'ambito della collaborazione della Regione Piemonte, è stato possibile contribuire alla definizione dell'edizione 2019 dell'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici, mediante lo svolgimento di indagini e ricerche finalizzate alla valorizzazione dei principi attuativi in materia di green economy. Oggi non soltanto un elenco straordinario di numeri e di dati che caratterizzano da 17 anni questo nostro prezzario, che è diventato un unicum addirittura a livello nazionale, ma con novità che permetteranno a questo settore, particolarmente in crisi in questi ultimi anni, mi auguro anche grazie a questa nuova impostazione una crescita e nuove opportunità di lavoro e di sviluppo dei quali questa nostra grande si attende da questo comparto per poter continuare a recitare ruoli importanti all'interno della società economica. Questa sinergia che ha visto collaborare la realtà provinciale di Dicuneo con la regione Piemonte ha portato negli anni dei miglioramenti sempre più spinti. Nell'occasione del progetto europeo si è riusciti anche ad inquadrare una tematica come quella ambientale che proprio per sua natura va oltre qualsiasi tipo di confine territoriale. Sono tre i pilastri su cui si fonda quella che viene chiamata bioedilizia, ossia l'ambiente, la salute e il risparmio energetico. I risultati che ci aspettiamo da questa bioedilizia sicuramente possono anche generare un processo di lavoro e di guadagno per le tante imprese e i tanti professionisti che lavorano nel campo dell'edilizia. L'uso dei materiali che rispettano i criteri ambientali minimi deve ancora essere definito, formalizzato. Siamo in fase veramente iniziale, siamo agli inizi. Fra qualche anno sarà prassi. Non abbiamo nessun tipo di verifica sul campo della validità prestazionale del prodotto che rispetta i CAM. Vero che rispetta i criteri ambientali minimi, ma come si comporta nei dieci anni, nei cinque anni successivi alla pose in opera?